Mettiamoci al lavoro! Grazie per la visione! 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 Andare dritto! Andare dritto! Grazie per la visione! 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 Prepararsi a voltare a destra! Voltare a destra! Reventare a destra! Prepararsi a voltare a sinistra Voltare a sinistra Prepararsi a voltare a destra Voltare a destra e poi voltare a sinistra Voltare a sinistra Voltare a sinistra Alla rotatoria prendere la terza uscita Uscire adesso Qui termina il nostro viaggio Qui termina il nostro viaggio